la formazione che guadagna già il suo ingresso, anzi la possiamo già accogliere parliamo di Macomer, gruppo folk tradizioni popolari il margine, siamo nel cuore dell'isola Macomer è davvero un centro importante sicuramente l'importanza la deve anche alla sua posizione geografica, strategica proprio lì nel cuore dell'isola ma anche alla capacità dei suoi abitanti che nel corso della storia hanno saputo adoperarsi sul piano economico, nell'arte, anche nell'ambito delle tradizioni e pensate che un nome su tutti spicca sempre è quello di Melchiorre Mureno che è uno dei grandi poeti della nostra terra loro da oltre 20 anni rappresentano la tradizione non solo attraverso i balli ma anche una ricerca sempre aperta a valorizzare tutti gli aspetti che riguardano Macomer e la sua storia e le sue storie e stasera ci propongono proprio il ballo del margine e vedrete proprio questa fioritura che si muove intorno a delle coreografie che loro hanno mutuato dalla piazza al palcoscenico e quindi ve li lascio proprio per godere della loro esibizione un applauso agli amici di Macomer Tradizioni Popolari grazie a tutti 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 grazie a tutti